La stabilizzazione del personale sanitario precario entra nel decreto rilancio. Si accelera anche sulla concessione della casa integrazione in deroga e ancora una misura prevista proprio nel decreto rilancio approvato ieri dal governo. Per quanto riguarda i numeri invece i dati continuano a decrescere in Puglia ma l'epidemiologo Lopalco avverte nel futuro le pandemie saranno sempre più frequenti. La frequenza delle pandemie nei prossimi decenni probabilmente aumenterà proprio per questa invasione da parte dell'uomo o del mondo naturale. Più l'uomo si avvicina ai luoghi selvatici più è probabile che virus che normalmente hanno circolato senza dar fastidio a nessuno in ambienti selvatici appunto passino nell'ospite umano. A dichiararlo questa mattina è stato l'epidemiologo e consulente della regione Puglia per la pandemia Pierluigi Lopalco che ha anche aggiunto è una sorta di regola del bilanciamento tra le specie su questo pianeta. Intanto in Puglia i dati diffusi dal bollettino della regione mostrano ancora una decrescita scende la percentuale di nuovi positivi al covid e ferma lo 0,49%. Resta Bari la provincia più colpita. L'osservazione dei dati in questo momento è particolarmente importante dopo la progressiva liberalizzazione delle uscite dallo scorso 4 maggio che subirà un ulteriore passaggio il prossimo 18 maggio. Sul fronte economico ieri l'approvazione da parte del governo del decreto rilancio una manovra da 55 miliardi di euro per famiglie e imprese. Tra le misure approvate nel decreto vi è la stabilizzazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. A tal proposito è stata accolta la proposta del deputato pugliese del PD Ubaldo Pagano che equipara a questi dipendenti anche il personale medico, infermieristico e tecnico professionale del sistema sanitario nazionale assunto nel 2017 che abbia maturato tre anni di servizio entro il 31 dicembre 2020. Dunque una proposta partita dalla Puglia. La regione Puglia ha chiesto al governo di estendere la stabilizzazione del personale sanitario anche a coloro i quali maturano i 36 mesi di lavoro entro il 31 dicembre 2020. Da ieri sera la proposta è in legge con l'approvazione del decreto legge rilancio. Lo scrive con un post sui social il presidente della regione Puglia Michele Emiliano. Per il governatore si tratta di un riconoscimento al lavoro svolto di medici, infermieri e operatori sanitari che hanno combattuto contro il virus nella sanità pugliese. Emiliano poi ringrazia i parlamentari DEM Pagano e Madia, autori dell'articolo che ha inglobato la proposta. Semplificazione e accelerazione delle procedure per la concessione della casa integrazione in deroga entrano nel decreto rilancio. A parlare è stato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia al termine del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri, aggiunge Boccia, ha accolto la proposta su cui eravamo giunti ad un accordo al termine di un confronto con le regioni e con la ministra Catalfo. Una soluzione frutto di una positiva collaborazione istituzionale che va incontro alle necessità di modificare delle procedure non adatte all'emergenza che stiamo affrontando e che sarà a vantaggio di molti lavoratori e imprese in questo momento di estrema difficoltà.